In una libreria, dietro agli scaffali, aveva la sua tana, un topo con gli occhiali. Il giorno dormicchiava, così si nascondeva, nessuno immaginava che lui vivesse lì. Però quando il libraio di sera andava via, il topo riaccendeva le luci in libreria e poi negli scaffali un libro si pigliava e a leggere iniziava con gran curiosità. E fino all'avventura comincia l'avventura, un sogno a doppi aperti nel mondo che vuoi tu. I libri sono anni che aiutano a volare, i libri sono belle che fanno navigare. I libri sono inviti a straordinari viaggi, con mille personaggi, l'incontro sempre c'è. A scatti che il libraio da un po' è andato via, però una certa sera tornò in libreria. Il topo con gli occhiali passò un brutto guaio, ma lui pregò il libraio in lacrime così. Non mi cacciare via da questa libreria, perché io amo troppo i libri che sono qui. I libri sono anni che aiutano a volare, i libri sono belle che fanno navigare. I libri sono inviti a straordinari viaggi, con mille personaggi, l'incontro sempre c'è. I libri sono amici che fanno compagnia, i libri sono sogni, piacere da quanta via. I libri sono momenti di gioia e commozione, non manca l'emozione che un brivido ti dà. Il topo con gli occhiali così ebbe permesso di stare in un libraio e fu un gran successo. Un luscio del negozio, il topo si affacciava e il pubblico invitava. E di che tutti qua! I libri sono amici che fanno compagnia, i libri sono sogni, piacere da quanta via. I libri sono momenti di gioia e commozione, non manca l'emozione che un brivido ti dà. Entrate in libreria, perché vi piacerà! Entrate in libreria, perché vi piacerà! Vi piacerà!